Tra due giorni dovremmo discutere in consiglio per dare 30 milioni di euro per questa incompiuta trascurata, mai finita, che il Veneto aspetta da 20 anni, che si chiama Servizio Ferroviario metropolitano regionale. Qui c'è una stazione realizzata per questo servizio con un grande enorme parcheggio vuoto e ci chiediamo quindi come mai Zaia vada a inaugurare tratti di autostrada e non ci spieghi, non spieghi ai Veneti che fine hanno fatto i soldi di questa metropolitana. Noi chiediamo con molta forza che quei 30 milioni siano dati a chi fa funzionare i treni per i Veneti, non alle carte bollate che in questi 5 anni in giunta hanno nascosto nei cassetti fino a quando un tribunale non gli ha intimato di darli alla società che aveva progettato questo sistema e che non è mai stato realizzato. Il Veneto ha bisogno di fare una bella cura del ferro. Dal 2001 che doveva partire tutto il servizio mancano, oltre agli investimenti sul servizio ferroviario, il raccordo degli orari tra il treno, la gomma, i tram e così via, manca il biglietto unico che è il titolo di viaggio utile e comodo per il turista, per chi vuole girare il Veneto in tranquillità e che a tutt'oggi nonostante le grandi somme spese per le consulenze si parla di milioni, non è ancora stato realizzato. Ora di fronte alla prospettiva futura abbiamo i fondi strutturali europei che potrebbero fornire le risorse necessarie. Bisogna però cambiare e voltare pagina dal punto di vista della governance perché se non riteniamo questo un servizio essenziale dal punto di vista sociale, economico, ambientale per lo sviluppo del Veneto, è chiaro che siamo da tutta un'altra prospettiva rispetto a quella che noi oggi riteniamo prioritaria. E Zaya che oggi inaugura un troncone di autostrada è la dimostrazione che l'attenzione è da un'altra parte.